la palla rimane lì, attenzione non c'è nessun compagno, quindi passaggio sbagliato ci sono due minuti di recupero, così Lempoli può provare ad accorciare nuovamente le distanze però con l'uomo in meno, ovviamente adesso sarà molto più difficile farlo Lempoli però ci prova, recupero io la palla, spazzo via finisce qua il primo tempo I never need to know her, I never need to know her I never need to know her I never need to know her Dunque comincia questo secondo tempo e cerchiamo di portarci nuovamente avanti, cioè ancora avanti un altro gol tipo questo, c'è il portiere la mette in mezzo la palla rimane in possesso, Juve di testa non ci arrivo attenzione perché la palla potrebbe rimanere lì, se i nostri giocatori sono propri a prenderla magari invece no riparte Lempoli invece la difesa recupera tutto la palla nostra con sei sa, attenzione, attenzione posso inventarmi qualcosa da qua il portiere c'è l'Empoli ci prova con un cross in mezzo tutto sballato palla nuovamente in mio possesso scostretto a liberarmene però attenzione perché ci so da solo di testa troppo debole l'Empoli non molla l'Empoli non molla con l'uomo in meno l'Empoli non molla dammela qua devo superarlo in qualche modo attenzione ci prova da qui c'è il portiere ci provo prendo di nuovo il difensore incredibile l'Empoli comunque sta rischiando grosso attenzione l'Empoli la difesa intercetta per fortuna inutile che mi prendo le colpe perché lì non ne ho il passaggio mi è stato fatto inutilmente la difesa spazza però l'Empoli ancora tiene palla in qualche modo c'è ancora la difesa perde palla così a cazzo errore incredibile attenzione l'Empoli c'è il portiere tutto di prima lo salto in qualche modo peccato peccato era buona metto fisico qui di difesa del pallone riconquista palla in aria con il movimento d'applausi possiamo ripartire dunque lo vedo dell'altra fascia ci provo peccato peccato era buona l'azione proverò proverò a metterla in mezzo e il portiere c'è attenzione l'Empoli niente da fare l'Empoli è corsa di nuovo le distanze quindi ci ritroviamo di nuovo in una situazione in cui possiamo rischiare di pareggiarla di nuovo ci provo prendo il mio stesso compagno attenzione l'Empoli in dieci in dieci indemoniato adesso l'Empoli devo correre devo correre e andare a fare un altro gol devo farlo calcio d'ancolo gol attenzione l'Empoli di nuovo ho provato andiamola definitivamente a chiuderla sta partita l'Empoli mi ruba palla però la rimessa vabbè meglio che non parla in questi casi attenzione perché la intercetto in qualche modo c'è un'altra occasione in questa posizione non riesco a fare niente però per fortuna c'era la difesa lo vedo sulla fascia devo saltarlo devo saltarlo però tenco palla dai almeno questo attenzione bellissima azione rete partita completamente chiusa calcio d'angolo calcio d'angolo anche se ormai la partita è sempre scritta scegli la soluzione la difesa in qualche modo cerca di tenere palla usciamo dalla nostra area e cerchiamo di uscire anche dalla nostra metà campo ok possiamo già mettere in atto la nostra forse ultima azione e invece c'è tempo per un'altra azione e prova dalla distanza si prova ancora completamente finita la partita adesso l'Empoli ci prova la difesa c'è ancora ma l'Empoli tiro potente ma non concreto controllo bene attenzione perché tengo palla lo vedo sono tutto libero di testa e il portiere me la para la posso mettere in mezzo non trovo nessuno dei miei però la palla rimane a noi ci prova ma ancora calcio d'ancolo dunque c'è la difesa dell'Empoli ci prova con il super tiro altro calcio d'ancolo la mette in mezzo niente da fare palla nostra ancora ci prova incredibile ancora botta dalla distanza ci è andati molto vicini è successo di tutto in questo finale Juve intemoniata adesso la partita finisce finisce con la vittoria della Juve fanno offenza ai bianconeri il successo oltramerità rotondo mai in discussione hanno prefimato con la vittoria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Juventus PSV Tutti gli occhi sono su questo calciatore L'ultima partita, lo sapete, ha fatto poker Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.